Un portiere oggigiorno non deve essere furbo, deve essere intelligente. La grande differenza magari è del portiere di tanti anni fa, dove magari con un po' di furbizia, un po' di scaltrezza, potevi diventare un gran portiere. Oggi deve essere intelligente. Mi chiamo Patrifoletti, anche se tutti mi chiamano Fox, sono l'allenatore dei portieri. Da dieci anni a questa parte, sì. Effettivamente il lavoro sul campo, in fin dei conti, durante un torneo si riduce a 60-75 minuti, non di più. Per produrre questi 60-75 minuti ci sono diverse ore e le notti sono sempre corti durante un torneo per preparare questi 60-75 minuti. Quindi sono più davanti al computer che su un campo di calcio. F-O-X-1 Hashtag O all'incontrario Hashtag F-O-X-1 Malgrado l'età ho deciso anch'io di entrare in questo mondo e per me è importante per poter comunicare con tanti allenatori dei portieri, per dare idee. È nata così e sono contento che i feedback sono positivi e grazie al nostro lavoro qui possiamo dare magari un'idea o un'emozione a tanti allenatori dei portieri che mi seguono in tutto il mondo. Hashtag